Torna ad attualità il progetto di social housing di Via Longo a Teramo. Il consigliere comunale Paola Cardelli ieri ha riportato l'argomento all'interno della commissione comunale di controllo e garanzia a caccia di risposte da parte dell'amministrazione comunale. Il consigliere Cardelli sottolinea come la convenzione stipulata tra comune ed SGR che gestisce il fondo immobiliare a cui sarebbe dovuta essere conferita l'area di Via Longo sarebbe ormai carta straccia e che il concorso di idee bandito per nome e per conto dell'ente sia solo un passatempo. In più continua Paola Cardelli, l'Ater non ha mai avuto alcuna realistica possibilità di attuare il piano di mobilità degli inquilini. L'assessore Misticoni fa lo stato dell'arte del progetto che entro la fine dell'estate 2017 dovrebbe partire concretamente con la conclusione dello spostamento degli inquilini. Dovremo continuare a liberare le palazzine di Via Longo e già la prossima settimana insomma convocheremo i residenti della terza palazzina presso l'Ater appunto perché ci sono altri appartamenti in via Fonte Regina che li vorremmo far vedere e sottoporre. Fatto lo spostamento degli abitanti di Via Longo poi si procederà con invece tutta la serie invece di altri atti fra cui un'interrogazione del mercato nel momento del conferimento ovviamente dei beni immobili nel fondo patrimoniale. Grazie a tutti.